Quali sono gli obiettivi e le sfide che aspettano i comuni per il prossimo anno, il 2018? Sono sostanzialmente due. Primo, partecipare con grande responsabilità all'attuazione della finanziaria, ma soprattutto anche a quel processo di autonomia di cui si è ricominciato a parlare a seguito del referendum e con l'avvio dei tavoli. Dentro qui la questione fondamentale è quella di essere messi nelle condizioni di spendere meglio le risorse che si hanno a disposizione, di diminuire i lacciuoli che spesso sono sintomo di un centralismo che non fa bene al funzionamento dei comuni e delle amministrazioni in genere e soprattutto riuscire a far sì che le risposte che i comuni debbono dare ai cittadini e alle imprese avvengano quindi in tempi più celeri. La seconda sfida che abbiamo condiviso è continuare ad affrontare le tematiche dell'efficientamento della spesa dei comuni nel campo soprattutto dei servizi alla persona con le molteplici misure che sia a livello nazionale che regionale sono state previste. Il rinnovo dei piani di zona ne è uno, l'applicazione delle misure per i minori da 0 a 6 anni è un'altra, le misure previste da Regione Lombardia su capitoli diversi, la sfida del reddito di inserimento. Tutte occasioni per far sì che una Regione formidabile come la Regione Lombardia abbia la possibilità di riequilibrare dentro quelle comunità che sono in sofferenza le sacche di disagio a favore appunto di opportunità che siano realmente, se non per tutti, per la gran parte dei cittadini. L'augurio è quello di continuare con lo spirito di servizio che sempre ci ha contraddistinto. I comuni sono, lo diciamo spesso ma è un dato vero, il primo punto di riferimento e quindi spesso accogliamo anche domande che non sono rivolte ai comuni ma che volentieri cerchiamo poi di riorientare. Quindi il senso del coraggio che il Natale ci infonde, cioè di scommettere anche sulle fatiche, su un bambino per chi crede ma anche per chi non crede che nasce e dà questo segno di speranza significa anche non essere ingenui ma poter contare anche su quelle alleanze nelle nostre comunità locali che sono fondamentali. Gli amministratori da soli non vanno da nessuna parte ma noi siamo abituati a fare quel gioco di squadra con le nostre comunità valorizzando i corpi intermedi, valorizzando il rapporto con le altre istituzioni ma avendo come mira innanzitutto il servizio ai cittadini. L'augurio che faccio quindi ai tanti colleghi è quello di continuare a credere con entusiasmo a questa bella funzione che è quella di servire la propria comunità locale.